Ciao, sono il dottor Max, in questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo. Congiuntivite, cause e sintomi. La congiuntivite è l'infiammazione della congiuntiva, superficie interna della palpebra, che appare ingrossata e gonfia. Può essere provocata da batteri, virus, fattori allergici, parassiti, funghi ed agenti chimico-fisici. Congiuntivite, possibili cause di congiuntivite. Congiuntivite è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Blefarite, cheratite da herpes simplex, ebola, febbre di lassa, herpes zosteroftalmico, malattia di lime, retinoblastoma, rinite allergica, sindrome di Reiter, sindrome di Siegren, tracoma, virus Zika, cause rare. Allergie respiratorie, anisachiasi, artrite psoriasica, artrite reattiva, calazio, cefalea, cheratocono, dacriocistite, dermatite atopica, dermatite seborroica, febbre morragica di Marburg, malattia da graffio di gatto, malattia di Cagas, malattia di Kawasaki, malattia di Viple, mollusco contagioso, orzaiolo, pinguecola, porfiria, porfiria cutanea tarda, rinite, rosacea, sesta malattia. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte. MyPersonalTrainer.it